Prosegue la mobilitazione della CGL su pensioni e lavoro. Per contrastare la riforma fornero delle pensioni e dare lavoro ai giovani. Per contrastare le scelte inadeguate della legge di bilancio perché è necessario imprimere un serio cambiamento alle politiche industriali del mercato del lavoro. Per contrastare la decisione del governo di ridurre gli ammortizzatori sociali perché anche a Modena la crisi non è finita. Per richiedere un modello di sviluppo basato sulla legalità e su un maggior controllo del sistema degli appalti. Per rimuovere ostacoli alla parità tra i generi e contrastare la violenza sulle donne. Per valorizzare i contratti stabili contrastando la precarietà. Per una nuova stagione di giustizia sociale e di redistribuzione attraverso la contrattazione nazionale e territoriale. Per richiamare le associazioni di imprese alla tutela del patrimonio industriale e dalla salvaguardia dell'occupazione. Per queste ragioni giovedì 10 maggio CGL Modena proclama lo sciopero generale di 8 ore o comunque per l'intero turno di lavoro. Alle ore 9 e 30 si avvierà la manifestazione dagli stabilimenti della Maserati per raggiungere la sede di Confindustria. Noi ci saremo, più non mancare. Noi ci saremo, più non mancare.